La Polizia ha concluso un'operazione in parte sotto copertura per il contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori online. L'operazione ha portato all'arresto di 13 persone a 21 denunce a piede libero in diverse regioni per divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico. Le indagini, durate più di un anno e mezzo, sono state condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Palermo, dal compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Sicilia Occidentale, con il coordinamento del Servizio Centrale, presso il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online.